Il mio nome è Chiara Spallotta, sono una graphic designer e una illustratrice freelance. Mi sono recentemente laureata all'ISIA di Urbino, indirizzo comunicazione e design per l'editoria. Precedentemente ho frequentato l'Accademia di Belle Arti di Urbino nel corso di nuove tecnologie per l'arte e ho appena realizzato un progetto di tesi che si interessa alle forme di narrazione popolari. In particolare ho ricercato quali erano gli idiomi, i modi di dire, nati più recentemente nel mio paese e ho cercato di ricostruire qual era la maniera in cui si erano imposti e instaurati all'interno della mia comunità. Per fare questo ho intervistato molte persone oltre 80 anni e 90 anni che mi hanno raccontato sia la nascita di questi modi di dire, i personaggi, i protagonisti che li hanno fatti nascere, sia le usanze di allora, tutte le sfumature che stavano intorno a queste storielle. Questo lavoro è confluito in un libro, Fossombron sparita, il mio paese è Fossombrone. I testi delle storielle sono nel dialetto locale ma per ognuna è presentata una traduzione alla fine e per ogni modo di dire viene spiegato che cosa vuol dire e da dove viene molto brevemente e poi questa origine viene spiegata meglio con una storiella da me illustrata. I colori che ho scelto sono il blu e il rosso, ho cercato di non usare troppi colori per non appesantire queste cose che sono dei ricordi in un certo senso, questi concetti. Ogni strofa viene interrotta dalle interviste a queste persone di cui ho riportato anche il ritratto ogni volta e la storia si svolge così. Le illustrazioni sono state realizzate raccogliendo foto dell'epoca e facendomi spiegare come erano i luoghi e come avvenivano determinate cose. Ci sono dei bei paesaggi che ho ricostruito con l'aiuto di degli storici e di gente che ha ricordato come erano determinati i luoghi di cui non c'era fotografia e di questo sono piuttosto contenta. Il lavoro è molto piacevole da leggere perché è scritto nello stesso italiano colloquiale con cui si esprimevano queste persone che mi parlavano. Questo è altro modo di dire, altre illustrazioni, altri luoghi, altri personaggi, altre narrazioni. Mi piacerebbe che questo mio lavoro venisse pubblicato perché sia perché è frutto di un duro lavoro sia perché secondo me è molto valido anche a livello di testi e di piacevolezza di lettura. Super giù è tutto qui, intendo abbandonare in parte la progettazione grafica per dedicarmi all'illustrazione nei prossimi tempi e questi sono i miei propositi attuali. I miei lavori li carico su chiaraspallotta.tumblr.com, la mia pagina Facebook è Chiara Spallotta e ho anche un Beyance sempre a nome Chiara Spallotta e questo è tutto.